Lo sapevi che la fibra ottica non è l'unico modo per avere una connessione a banda larga? La tecnologia FWA, Fixed Wireless Access, è una valida alternativa. Il segnale viene distribuito agli utenti tramite onde radio, senza la necessità di posare cavi. Attualmente la velocità delle connessioni può arrivare a 100 MHz, ma le architetture di rete sono scalabili in ottica di un futuro sviluppo. Quindi la fibra ottica non servirà più? Al contrario, le stazioni radiobase sono tutte collegate in fibra alle reti superiori per garantire lo scambio del traffico delle utenze ad alta velocità. Fibernet ha tutti i prodotti ottici necessari allo sviluppo di reti FWA. Ad esempio, stiamo già fornendo speciali cavi personalizzati per le antenne di Eolo, uno dei più importanti operatori wireless italiani. Per maggiori informazioni visita il nostro sito Fibernet.it o contattaci tramite i nostri canali social.